In questo video volevo farvi vedere come si mette una parrucca Iniziamo subito con il make up lo potete trovare nel mio video che si chiama trasformazione, vi lascio la i di informazioni così potete vederlo se volete Iniziamo subito con la cuffietta che loro di solito vi danno la allargate l'infilate tra la testa e il corlo come se fosse un choker ok, ora l'aprite tutta e praticamente, però io faccio di solito così passo quest'elastico, la cuffia qua tra le orecchie, così sta bella ferma poi prendete tutto questo ammasso di cosa e fate così, tirate all'insù fino a che non prendete tutti i vostri capellini dopo che sono tutti presi attaccate con una mollettina ok oh mio dio, scusate mi è volato ok mi è volato tutto ciò tutto ciò poi questa, alzate un pochettino perché specialmente questa parrucca che ho preso ha la frangia quindi alzatela un pochettino perché sennò poi vi si vedrà oh mio dio, mi sta cadendo lo specchio perché praticamente poi vi si vedrà la linea della retina bene Momo, benissimo comunque è meglio forse se la attaccate con una codina ok, così stanno veramente fermi tanto non vi si vedrà il bozzo della codina e niente, iniziamo subito la parrucca è una questione che ho preso e viene tutta mossa l'ho provata già ieri quindi già è tutta scombinata ed è questa qua è abbastanza lunga è molto molto rossa non so se la vedete comunque poi ve lo faccio dare meglio fuori e niente, tutto ciò che è da fare è metterla dalla parte comunque della frangia in questo modo e tirarla scusatemi un secondo tirate finché comunque non sentite che la rete è tutta coperta quella di sotto e voilà oh mio dio mi sta così fa schifo cioè l'ho messa un po' alla cazzo di cane scusate che adesso l'aggiusto comunque c'è facilissimo mettere una parrucca oh mio dio sembra una diva di olio niente la potete modellare come volete comunque per essere una parrucca sintetica è veramente favolosa e poi comunque cioè guardate che c'è qua veramente ha dei capelli per essere veramente sintetici che so potete vedere anche spostare in qua vi potete un po' sbizzarrire e io la amo sta parrucca poi con questo make up penso che sia da dio e niente vi lascio qua sotto nell'info box il link dove potete acquistarla e niente è tipo favolosa cioè che volete dirci ora ci vediamo un po' fuori così vi faccio dare meglio il colore alla luce del sole e niente questa è la parrucca la luce vedete è un bel rosso devo dire la verità sembra più reale con tutto che è sintetica dell'extension tipo la d'oro mi sa che la metterò per il pride e niente cioè se volete acquistarla costata tipo pochissimo tipo manco 10 euro se non sbaglio 10 euro è qualcosa vi lascio qua sotto il link dove l'ho acquistato ovvero da Aliexpress anche i posti dove potete trovarmi che nel lunedì e venerdì faccio un video nuovo quindi se volete iscrivetevi e ci divertiamo un pochettino ciao preoccupate sarà più calda allora in questo video proverò la parrucca però prima volevo fare un piccolo trucco per no prima faccio il trucco sapete che vi dico faccio il trucco vediamo non trovo la matita ce l'ho sotto il culo cioè non trovo la matita non trovo la matita non trovo la matita